Ciao, in questo video trovi le informazioni riguardanti il corso Iniziare a lavorare come insegnante freelance e possibilità di fare carriera che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre 2020. Il corso è offerto da Insegnante Freelance, la prima e unica accademia in Italia di formazione specializzata per insegnanti freelance. Ma vediamo di cosa tratta questo corso. Questo corso in particolare tratterà del mondo dell'insegnante privato, l'insegnante a domicilio, l'insegnante a casa, online, in particolar modo l'insegnante di ripetizioni scolastiche e lingue straniere. Se andate a dare un'occhiata tra i video di insegnanti freelance vedrete che ci sono altri modi di lavorare come insegnante freelance, ma in questo corso ci concentreremo su quest'ambito, le ripetizioni scolastiche e le lingue straniere. Il corso sarà, come abbiamo detto, dal 28 settembre al 2 ottobre 2020. Sarà un'ora di diretta dalle 16 alle 17 dal gruppo Facebook di Insegnante Freelance. Quindi nelle tue mail riceverai in questi giorni delle informazioni, troverai il link per iscriverti al gruppo Facebook, iscriviti. Lì troverai anche varie informazioni riguardo a questo mondo e entrerai a far parte della community di insegnanti freelance in cui potrai trovare altri aspiranti insegnanti freelance proprio come te. Non ti preoccupare se non potrai essere presente alle dirette, meglio se potrai esserci perché potrai comunicare direttamente con l'insegnante. Il corso sarà tenuto da me in persona, ma vedrà varie persone coinvolte. Avremo con noi una commercialista, avremo con noi web specialist, avremo con noi gente professionale che ci aiuterà a capire meglio questo mondo. Potrai vedere le registrazioni della lezione direttamente dal gruppo Facebook, comunque se non potrai essere presente. Riceverai tutte le slide della lezione, tutto il materiale didattico, direttamente nella tua mail e anche gli esercizi. Ma come esercizi? Sì, perché il percorso è pratico-esperienziale. Se potrai esserci in diretta, potrai interagire con l'insegnante, potrai pensare alle domande, scriverle e l'ultimo quarto d'ora l'insegnante risponderà direttamente alle domande di chi vorrà porle. E il corso è pratico-esperienziale perché è corredato di esercizi. È corredato di esercizi pratici. Infatti, una delle filosofie dell'Accademia di Insegnante Freelance è l'apprendimento basato sul costruttivismo, ovvero sulla pratica, poiché una nozione appresa e lasciata lì a riposare perderà la sua efficacia. Si creerà quindi un progetto personalizzato e cucito su di te. Potrai confrontarti con altri aspiranti insegnanti e in questo modo crescere, fare un percorso di gruppo. Questo corso di una settimana ti darà degli strumenti per poter lavorare da subito con le ripetizioni scolastiche o come insegnante di lingue straniere perché ti daremo gli aspetti tecnici e fiscali, come ti ho detto, saremo anche in diretta con una commercialista e ci saranno dei segreti per trovare i clienti, trovare alunni, che secondo le statistiche è uno degli aspetti che spaventa di più, che ci ferma di più da lanciarci a lavorare come freelance. e negli esercizi pratici creeremo insieme il tuo annuncio catture a clienti. Quindi in questo corso sicuramente ti porterai a casa un bell'annuncio con cui potrai già cominciare a spammarlo nei canali migliori. E ci saranno anche degli esercizi di crescita personale perché ovviamente lavorare come insegnante la prerogativa è avere amore, pazienza, che vuol dire passione, passione sia per la materia che si va a insegnare ma amore anche verso il prossimo, verso chi ci sta davanti. Riusciamo a portare un risultato quando abbiamo tutta la voglia e quindi focalizziamo tutta la nostra energia affinché l'alunno, chi ci sta davanti, impari, capisca la lezione e si porti a casa la gioia di aver appreso delle nozioni nuove, degli strumenti che lo porteranno avanti nella sua vita e promuovere anche quello che è l'apprendimento continuo, quindi non più un apprendimento che è basato solo sui libri e come dicevamo prima lasciato lì a marcire, a riposare, ma è un apprendimento continuo, è vedere la vita ogni giorno, ogni secondo con curiosità ed è lavorare sulla gratitudine, quindi lavorando sulla consapevolezza lavoreremo anche su ciò che è l'autostima che è una cosa molto importante per lanciarsi a lavorare da freelance. Bisogna avere fiducia nelle proprie capacità e nel proprio istinto, poiché lavorare da freelance vuol dire non avere uno stipendio fisso, ma dall'altra parte ci dà la libertà. Avere una buona autostima è essenziale per lavorare da freelance, vuol dire avere stima e fiducia nelle proprie capacità e nel proprio istinto, poiché non abbiamo uno stipendio fisso, ma abbiamo uno stipendio che può essere variabile, ma sappiamo che con il nostro lavoro, con il nostro impegno, possiamo riuscire a guadagnarci uno stipendio. Vediamo un po' di argomenti che tratteremo in questo corso. Presenteremo la figura dell'insegnante freelance, modi, metodi per svolgere questo lavoro, gli aspetti fiscali, quindi quando serve aprire la partita IVA, quando non serve, aspetti tecnici, gli studi necessari, come fare lezioni online, come usare internet per trovare alunni, come fare carriera in questo lavoro, come tecniche di apprendimento, metodo di studio, coaching per l'alunno e di tre passi per diventare insegnante freelance. E nel corso risponderemo anche a curiosità, come per esempio come fare per cominciare a lavorare da insegnante freelance, se ho già un lavoro a tempo pieno, che requisiti servono per fare l'insegnante freelance e se hai domande inviacele, perché risponderemo ai tuoi quesiti, siamo qui per questo. Quindi alla fine di questo percorso settimanale avrai delle conoscenze fiscali e tecniche che ti daranno la possibilità di poter cominciare a lavorare da subito come insegnante freelance e delle conoscenze anche riguardi i possibili futuri, i possibili modi di fare carriera in questo ambito. Ed alla fine del percorso avrai anche la cosa più importante che abbiamo, il tempo, perché riceverai in regalo una consulenza gratuita personalizzata. Perché solo dopo aver seguito il corso? Perché tramite il corso riceverai le nozioni generali e ci concentreremo nella consulenza in fare qualcosa il più specifico e personalizzato su di te in modo da poterti aiutare nel miglior modo possibile. Quindi ci sarà mezz'ora di consulenza in cui cercheremo di approfittare al massimo di questo tempo in modo che sia il più fruttuoso perché a me non piace perdere tempo e neanche a te perché la vita è breve. Quindi alla fine del corso potrai, come dicevamo, cominciare a lavorare da subito come insegnante freelance perché avrai le nozioni basiche, tecniche e fiscali. Ma avrai anche la possibilità di avere un colloquio per diventare possibile collaboratore di insegnante freelance. Insegnante freelance è una scuola che è appena nata e ricerca collaboratori sia dal mondo del creator nel mondo del marketing, promoter. Quindi alla fine di questo corso possiamo sentirci attraverso una consulenza e capire in che modo puoi collaborare con noi. Oppure dopo la consulenza puoi anche approfondire i temi trattati attraverso la scuola di libertà che è la scuola di formazione per insegnanti freelance. I temi trattati nella scuola di libertà puoi trovarli già nel sito internet di insegnante freelance alla voce scuola di libertà. Ma di questo parleremo più avanti. Intanto do un paio di consigli. Seguici sulla pagina Facebook e Instagram di insegnante freelance in cui ogni giorno troverai nuovi contenuti. Nel blog di insegnante freelance trovi già degli articoli interessanti. E chiedi e ti sarà dato. Provvederemo a fare ricerca sulle tue curiosità.